davanti ai reati stradali meno odio e più riprovazione sociale copyleft claudio martino nel mio ruolo di gestore della pagina facebook che con entusiasmo mi sono auto assunto da qualche settimana mi è capitato di leggere diversi commenti di autentico odio nei confronti dei responsabili di cosiddetti incidenti stradali con richieste in alcuni casi estremi addirittura della pena di morte nei loro confronti si tratta evidentemente di sfoghi emotivi non suffragati da convinzioni reali ogni volta sono naturalmente molto colpito da questi commenti e non ho il coraggio di replicare nulla indovinando il vissuto drammatico che sta dietro ognuno di essi come ogni volta rimango sconcertato quando il reo è straniero ed il risentimento nei suoi confronti si tinge di esterofobia specialmente se trattasi di cittadino dell'est europeo magari proveniente da un paese dove i pirati della strada vengono trattati più severamente che da noi ma quello che mi sconcerta veramente è il fossato profondo che percepisco spero erroneamente tra una minoranza che si indigna in molti casi solo perché colpita personalmente per questi gravi reati ed una maggioranza che li considera spero di sbagliarmi come fatti fisiologici come una sorta di malattia esantematica è la solita vecchia abitudine molto tipica degli italiani di commuoversi subito dopo i fatti per riprendere subito dopo allegramente i comportamenti sbagliati che quegli eventi luttuosi producono tutti sono pronti ad esempio a scagliarsi contro l'automobilista di turno specie serrumeno ed albanese che a causa dell'alta velocità uccide delle persone così come sono capaci di promuovere delle autentiche crociate con i solidi discorsi che ben conosciamo sullo stato che vuole fare cassa contro alcune misure autovelox dossi artificiali tred eccetera che quelle tragedie in molti casi potrebbero prevenire io penso per tornare al discorso iniziale che tutti noi dovremmo esprimere meno odio davanti ai fatti eclatanti e più riprovazione nella nostra vita quotidiana nei confronti di chi ad esempio ci sorpassa in modo azzardato o non si ferma davanti alle strisce facciamo sentire di più il nostro disprezzo per questi comportamenti asociali senza possibilmente insulti inutili addirittura in maniera gentile se ci riusciamo cominciando a creare una cortina di autentica riprovazione sociale intorno a chi ne è autore